Ma sì, Goldoni! Io sarò la vostra musa! I costumi dei due sgherri sono un po' ispirata a Lancia Meccanica perché dovevano comunque avere una certa violenza. Signor, taglia la camera! Posso spiegare? Nel momento in cui si entra nella pièce scritta da Goldoni i costumi vengono messi a rovescio e si entra più nel Settecento come costuma più storico. Sì, mi è venuto in mente di mettere insieme la commedia, le maschere e il bel canto, creando questo piccolo progetto sul teatro musicale. Il pubblico, anche straniero, può godersi il canto lirico ma allo stesso tempo vedere i lazzi della commedia dell'arte, cosa che era già intrinseca comunque nei lavori stessi degli intermezzi di Goldoni. Mi dispiace che sia finito! Questo progetto va a recuperare partiture e scritti che sono frammentari. Negli intermezzi di Goldoni e della musica ne abbiamo quasi uno completo che è appunto questo di Tre Gobbi, recuperando appunto questo mondo che è sconosciuto. I Tre Gobbi, dal 25 ottobre! La spettiamo!